Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travater91 e sì, non vi spaventate, è una modalità un po' diversa di fare video rispetto al solito ma mi sto riprendendo col cellulare e in questo momento sono nella mia auto parcheggiata il motivo per cui faccio questa particolare cosa è questo qui biglietta dell'arcade di Melzo, sala Atmos, quindi sala energia IT, come potete ben vedere, orario mezzanotte 01 perché sono qui all'anteprima di giovedì 19 settembre appunto temprima di mezzanotte di IT organizzata da Baytaste.it ho preso i biglietti un paio di settimane fa mentre ero al, quando ho visto Blade Runner 2049 ed ero venuto già qui all'arcade di Melzo e che dire, sono emozionatissimo, ho qui appunto il biglietto ho anche un bel palloncino, purtroppo non è gonfiato Elio perché non ce l'avevo in casa però vabbè, comunque un palloncino a tema ci voleva e nulla, non potevo non fare questo video un po' particolare perché vabbè adesso questa è l'introduzione, finito il film, registrerò un'altra cosa di questo tipo con le impressioni a caldo, questo è senza spoiler, questo perché la recensione penso che riuscirò a registrarla nel weekend e quindi passeranno un paio di giorni e voglio comunque dare subito le mie impressioni tanto se riesco appena torno a casa questo video, accendo un secondo il computer, lo carico subito e via perché proprio bisogna assolutamente comunicare subito le mie esperienze riguardo a questo film sono fomentatissimo, non vedo l'ora ragazzi, ho un hype a mille, questo film lo attendevo da anni e anni era il film che attendevo di più quest'anno, proprio non vedo l'ora quindi detto questo, vi saluto, ci rivediamo dopo quando avremo visto il film per delle considerazioni molto veloci ciao ciao, a tra poco ecco, allora eccomi qua, seconda parte, non sono più sotto l'arcade, ho deciso di aspettare di tornare a casa adesso sono davanti a casa mia per poter sbollire un po' tutta l'esperienza vabbè, stare l'anteprima è stato fantastico innanzitutto, sono davvero contento non ci hanno dato nessun gadget, la cosa mi è dispiaciuta parecchio, vabbè, peccato allora, pareri, attualmente positivo, ma me lo devo rivedere per giudicarlo bene il programma più o meno è, se riesco sabato arrivato a vederlo ero già un po' d'accordo con un amico, spero di riuscire sabato sera domenica sera spero di riuscire a registrare il video e poi un paio di giorni per montarlo, mi serviranno perché avrò anche altre cose da fare non avrò tutto il giorno libero quindi sì, bisognerà aspettare almeno una settimana dall'uscita perché vediate la mia recensione ma meglio così almeno, molti di voi faranno il tempo a vederlo farò comunque la parte senza spoiler e poi una parte con spoiler ma vabbè, almeno poi si potrà discuterne bene arrivati a quando caricherò il video cose da dire, allora, cose positive gli attori sono fantastici, soprattutto i ragazzini, tutti in parte, tutti ottimi caratterizzazioni molto azzeccate quella dei bulli un po' troppo macchiettistica però dovevano fare qualcosa un po' più veloce di altri quindi hanno detto, vabbè, caratterizziamo meglio i perdenti rispetto ai bulli hanno cambiato alcune cose e bisognerà vedere come le gestiranno anche nella seconda parte perché si capisce abbastanza che alcune cose che succedevano nel romanzo che coinvolgevano anche la parte per i ragazzini era dovuta al fatto che il romanzo di It, per chi non l'avesse letto non è primo blocco con i bambini e secondo blocco con i protagonisti adulti come invece sarà con il film, è alternazza continua adulti bambini e adulti bambini con le due storie che vanno in parallelo quindi certe cose venivano già svelate nella parte dei bambini perché facevano parte del crescendo della storia che arrivava al finale cioè nello scontro finale contro It, sia da bambini che da adulti loro affrontavano It nella sua forma finale che qui ovviamente non potevano mettere perché se c'è una seconda parte da preparare la forma finale di It, che pure viene leggermente citata dovrà essere presentata soltanto nella seconda perché dovrebbero aumentargli il budget visto il grande successo che ha avuto It comunque dicevo, ottimo gli attori, l'atmosfera mi è piaciuta l'amicizia tra i bambini è fatta molto bene il problema sorge nella parte horror nel senso che è fatta bene ma è molto scolastica che era una cosa che avevo notato anche in La Madre il film precedente del regista Andy Muschietti secondo me Andy Muschietti dopo aver fatto la parte 2 che comunque voglio che la faccia lui per una semplice questione di coerenza di coerenza stilistica preferirei che smettesse di darsi cioè che si desse a un altro film non so, a un fantasy, a un film di crescita di ragazzi lì se la cava molto meglio nell'horror non è malvagio ma gli manca lo sprint per essere un grande regista horror ecco, questo sì è un regista horror che se la sa cavare ma poteva dare di più Bill Skazgard è piaciuto come Pennywise si nota però che a causa del budget che ok 30 milioni non sono pochi ma non sono nemmeno tantissimi le forme di Pennywise sono troppo ricorrenti cioè sono più o meno due o tre temi che si rincorrono il bello di Hit per chi ha letto il romanzo che poteva diventare letteralmente qualsiasi cosa io spero davvero che il budget venga triplicato e che per la parte 2 che è l'Hit sfodere un repertorio molto molto più ampio di quanto abbia fatto vedere qui perché era un po' anche la fregatura della miniserie era troppo contenute le forme di Hit erano più o meno sempre quelle che si rincorrevano mentre Hit è molto molto più vario ed era la cosa affascinante di quel personaggio quindi spero che nella seconda parte aggiustino un po' alcuni errori non lo considero comunque un film malvagio sicuramente dopo questa annata di horror dove a parte Annabelle avevano tutti dei loro problemi erano tutti brutti non mi è dispiaciuto la cura del benessere di Verbinski ma anche lì mi era troppo dilatato quello vabbè avrò modo di parlarne più adeguatamente nella parte nel video lungo quindi sicuramente è un horror migliore rispetto a molti altri poteva essere ancora meglio però secondo me comunque ripeto non mi sento di bocciarlo almeno per ora vedremo quando l'avrò rivisto datelo a vedere qui sotto commentate evitando assolutamente gli spoiler quando farò il video lungo contrassegnate spoiler e potrete segnarli anche lì e quindi vedremo se riuscite andate in un cinema o Isense o se siete abbastanza vicini all'Arcade di Mel andatelo a vedere lì che almeno ve lo gustate ancora meglio detto questo se questo breve video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete ci vediamo se non trovo altre reaction da fare al video lungo e spero che qualcuno me lo chieda ho visto il terrelle di Pantera Nera ho deciso di non fare la reaction perché era carino ma non aveva elementi per di cui discutere tanto secondo me comunque ci vediamo al prossimo video che spero appunto sia la recensione più lunga ciao ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti